Buongiorno ragazzi, in questo video studiamo il teorema di Carnot, detto anche teorema del coseno. Questo teorema si applica a triangoli qualsiasi ABC, su cui utilizzerò la solita notazione definita tramite i tre vertici ABC. Quindi vedete, al vertice A corrisponde l'angolo alfa e il lato opposto, cioè il segmento BC, sarà denotato con la lettera A minuscola. In maniera identica, vertice B, angolo beta, lato opposto B piccolo, vertice C, angolo gamma, lato opposto C minuscolo. Come vi dicevo, il teorema dice che in un triangolo qualsiasi ABC valgono queste relazioni, cioè che A quadro è uguale a B quadro più C quadro meno due volte il prodotto di BC per il coseno dell'angolo alfa. In maniera analoga, però, si possono permutare l'ordine delle lettere e trovare anche queste due relazioni, cioè che B quadro è uguale ad A quadro più C quadro meno due volte AC coseno di beta e similmente che C alla seconda è uguale ad A quadro più B quadro meno due AB coseno di gamma. Quindi vedete l'enunciato del teorema ci dà tre relazioni che però corrispondono sempre a questa prima riga, a meno di permutare, quindi scambiare tra loro, il ruolo delle tre lettere ABC e quindi dei tre lati con i rispettivi angoli. L'importante è che sia sempre A quadro, quindi un lato, uguale alla somma dei quadrati degli altri due meno il doppio prodotto di questi per il coseno dell'angolo che fa riferimento al lato iniziale. Quindi vedete? Considero il lato A, devo prendere l'angolo opposto alfa. Quindi in futuro andrò sempre a dimostrarvi questa prima relazione, sappiamo che le altre due sono delle semplici permutazioni o conseguenza di questa. L'idea di questo teorema è una generalizzazione del teorema di Pitagora. Infatti, osservate che se alfa fosse di 90 gradi, avrei esattamente l'enunciato del teorema di Pitagora. Infatti avrei ipotenusa A quadro uguale a B quadro più C quadro meno due volte un coseno di 90 che fa zero. Quindi nel caso in cui alfa fosse retto, un angolo retto, ritroverei esattamente il teorema di Pitagora. Quindi il teorema di Carnot vuole essere una generalizzazione di questo teorema che ben conosciamo e di cui conosciamo l'importanza in tutte le sue applicazioni geometriche. Prima di iniziare la dimostrazione, facciamo ancora alcune considerazioni geometriche e trigonometriche sul triangolo qualsiasi ABC. Per prima cosa andiamo a considerare l'altezza riferita al vertice C, che sarà questo segmento che cade ovviamente su un punto della base AB che considererò, chiamerò H. Allora, vedete che il triangolo ACH è ovviamente un triangolo rettangolo e quindi, grazie alla definizione di seno, che è cateto opposto fratto ipotenusa, io so quantificare la dimensione di CH. In particolare sarà B seno di alfa. Se volete potete considerarlo come la proiezione del lato B rispetto a questo angolo alfa. In maniera però del tutto analoga posso anche considerare il triangolo CHB, anche questo ovviamente è un triangolo rettangolo, e su questo posso andare a fare la definizione del seno di beta. Allora troveremo che CH è uguale ad A seno di beta. Se volete sto proiettando il lato A rispetto all'angolo beta. In maniera simile, tornando sempre al triangolo ACH, posso andare a considerare la proiezione del lato B, diciamo in senso orizzontale, e quindi vedere che il segmento H sarà B per il coseno di alfa, sempre per la definizione di coseno che è cateto adiacente all'angolo fratto l'ipotenusa. E in maniera del tutto simile potete già immaginarvi che, sempre guardando il triangolo BCH, potrò vedere il segmento BH come la proiezione di A tramite il coseno di beta, e quindi vederlo come A coseno di beta. Osservate però che, essendo tutto il lato AB denominato come C, io posso vedere sempre questo segmento BH, anche come la differenza di tutto AB, cioè C, meno il segmento AH. E quindi BH corrisponde anche a C meno B coseno di alfa. Fatte quindi queste, direi facili, considerazioni trigonometriche, andiamo a dimostrare il teorema di Carnot, e in particolare la relazione di A quadro uguale a B quadro BC quadro meno 2BC cos alfa. Consideriamo il triangolo rettangolo BCH. Sappiamo che vale il teorema di Pitagora, e quindi in particolare potremmo dire che l'ipotenusa al quadrato BC è uguale alla somma dei quadrati dei cateti, quindi di CH alla seconda più BH alla seconda. Ora, andando a sostituire le grandezze trigonometriche che abbiamo osservato prima, avremo che A quadro, cioè il nostro BC, sarà uguale a CH alla seconda, quindi scrivo B seno di alfa, più il quadrato di BH. Vado a scrivere C meno B cos alfa, tutto al quadrato. Ora, con dei semplici passaggi algebrici, sviluppiamo i due quadrati, avremo A quadro uguale a B quadro sen quadro, qui ho un prodotto, più, vedete, C meno B cos alfa al quadrato, quindi il quadrato del primo, C quadro, il quadrato del secondo, B quadro cos quadro, infine meno il doppio prodotto, quindi meno 2BC coseno di alfa. Ora, ricordandoci la legge fondamentale della trigonometria, che ci dice che sen quadro più cos quadro fa 1, io posso andare a sommare, vedete, questo B quadro sen quadro, più B quadro cos quadro, trovando semplicemente B alla seconda. E quindi ritrovo esattamente la formula che volevo dimostrare. Questo conclude la dimostrazione del teorema di Carnot, che, vedremo, è molto importante in tante applicazioni geometriche che servono a risolvere un triangolo, cioè a determinare tutte le grandezze dei lati ABC e degli angoli alfa, beta e gamma di un determinato triangolo. Concludo con un'ultima osservazione, quasi una curiosità. Osservate che, nel teorema, noi stiamo dicendo il quadrato di un lato è la somma dei quadrati degli altri due meno il resto che dipende da quest'angolo alfa. Quindi, nel momento in cui io conosco due lati e un angolo, riesco a determinare in maniera veloce e diretta la lunghezza del terzo lato. Questi lati sono esattamente B e C e l'angolo compreso tra i due. E quindi, per determinare un terzo lato, mi basta conoscere due lati e l'angolo compreso. Due lati e l'angolo compreso corrispondono proprio alle richieste del primo criterio di congruenza che si aveva nel momento in cui andavamo a studiare dal punto di vista della geometria elementare le congruenze dei triangoli.